C'è preoccupazione per il progetto della regione Abruzzo di sversare nel mare antistante ai comuni di Silvi, Pineto, Monte Silvano e Città Sant'Angelo i fanghi dragati dal porto di Ortona. Una preoccupazione che i sindaci dei comuni interessati assieme al presidente dell'area marina protetta Torre del Cerrano hanno voluto ribadire con una conferenza stampa in cui si chiede alla regione di rivedere quanto pianificato e cercare soluzioni alternative. Da un lato ci sono le ragioni ambientali, spiegano i sindaci, soprattutto legati alla vicinanza dell'area individuata per lo sversamento con la riserva naturale del Cerrano. Dall'altro ci sono ragioni di carattere turistico, quell'area, dicono, è tra le più frequentate sul fronte del turismo balneare. Contestiamo, tra virgolette, il fatto che non si voglia un tanto riflettere sulla procedura perché l'autorizzazione di quel sito risale al 2011, se non vado errato, e quindi comunque prima dell'istituzione del SIC, perché l'area marina oggi è anche SIC ed è anche gestore del SIC, quindi come area marina abbiamo chiesto al Ministero un parere, proprio negli ultimi giorni, nelle ultime ore, rispetto al fatto che non si voglia adottare la valutazione di incidenza ambientale, perché in quel caso, diciamo, si fanno approfondimenti anche diversi, perché se da una parte è vero che siamo fuori dalla perimetrazione dell'area marina, dall'altra è vero anche che l'area marina non ha uno seccato, non ha un recinto, diciamo, in acqua dove specie marine rimangono all'interno. Ma ci preoccupa il fatto che se questi fanghi non sono fanghi ma sono delle sabbie, possono tranquillamente essere utilizzati per il ripascimento, che è un altro problema che interessa tutti i comuni costieri. Il comune di Montesilvano annuncia il sindaco Maragno, seguendo la diffida prodotta già dalla MP Torre del Cerrano, ha affidato ai legali tutte le carte affinché il progetto possa essere bloccato. E vogliamo scongiurare una scelta non oculata rispetto a quelle che sono le realtà dell'Abruzzo, perché andare a dragare della sabbia da Ortona e andarla a convogliare in quella che è la zona più turistica di tutto l'Abruzzo, con la più grossa ricettività di strutture alberghiere. Abbiamo centinaia di imprese che vivono di turismo, abbiamo balneatori, abbiamo albergatori, abbiamo cittadini e turisti che verrebbero danneggiati in maniera irreparabile. Siccome tutti, la Regione per prima, hanno sempre dichiarato ed esaltato la natura turistica dell'Abruzzo e la necessità di investire in turismo e ricettività, questa scelta mi sembra una scelta folle.